Passare da una spesa annua di oltre 60.000 euro in gasolio a una di circa 25.000 compresa la manutenzione degli impianti per scaldare le scuole elementari e media di Ceres. Quello economico è solo uno dei vantaggi della centrale termica alimentata a cippato di legna locale inaugurata ufficialmente dalle autorità locali alla presenza degli allievi delle scuole del paese della Val d'Ala. Grazie all'impegno del Gale, il gruppo di azione locale delle valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e delle amministrazioni comunali e grazie alle risorse del piano di sviluppo rurale della regione Piemonte la filiera legno e energia si sta consolidando aiutando i comuni a risparmiare sul riscaldamento degli edifici pubblici e creando prospettive concrete per le aziende forestali e per chi in esse investe e lavora. Mario Poma, direttore del Gale Val di Lanzo è un segnale per il territorio, il fatto che lo abbia realizzato il Comune insieme al Gale significa che è un territorio che crede in queste nuove tecnologie? Sì, è un lavoro che il Gale ha fatto insieme a tutta l'amministrazione del territorio, questo è uno dei sette impianti che il Gale ha finanziato con fondi europei, quindi con i fondi del PSR. Importantissima ricaduta sul territorio perché parliamo intanto di risparmi di circa il 50% rispetto all'uso del gasolio e poi è tutto fatturato che va alle imprese locali e non a fornitori stranieri. Ecco, quindi è uno stimolo anche all'economia locale e quando si fa economia in una valle significa poter garantire che la gente rimane in valle? Questo sicuramente sì, garantire con dei contratti di fornitura per 10 anni, per esempio un'impresa forestale, significa garantire dei posti di lavoro e anche di poterne creare di nuovi, quindi è un ottimo sistema di economia circolare che consente di rafforzare l'economia dei territori montani. Delle caratteristiche tecniche di questo impianto parliamo con Fabrizio Guglermetto, tecnico commerciale della ditta KVB che ha curato la realizzazione di questo impianto che utilizza innanzitutto cippato proveniente dal legname locale delle valli di Lanza? Assolutamente sì, cippato proveniente dal legname tracciato per cui abbiamo una mappatura dei boschi e della provenienza del legname, quindi del combustibile per tutta la durata della gestione dell'impianto. Vogliamo dare due dati sulle caratteristiche tecniche di questo impianto, lo ricordiamo, qui c'è un'alimentazione, viene scaricato il cippato, un sistema di tramogge lo conduce alle caldaie? Sì, siamo stati obbligati a utilizzare questo sistema perché come vedete il deposito e le centrali sono a un piano rialzato rispetto al piano terra, pertanto utilizziamo questi sistemi in questi casi. Le caldaie sono due caldaie da 120 kW cada una, per un totale di 240 kW, lavorano con un modulo di gestione in cascata, viene contabilizzato quello che è il calore erogato ai due edifici per cui abbiamo un esatto monitoraggio non del cippato caricato ma del calore fornito. Viene scaldata la scuola di Ceres, vengono scaldati i locali del municipio, quindi una cubatura importante? Assolutamente sì, è evidente che per decidere il kW delle caldaie sono stati fatti calcoli termotecnici di quello che è il fabbisogno di ognuno degli edifici.